Un bracciale semplice ma particolare, il centimetro, molto più di un bracciale. Non ci sorprendiamo che questa nuova creatura nasca dall'ingegno di un imprenditore marchigiano, questa volta al nome ed il volto di Giordano Torresi, che non per nulla lavora nel settore delle calzature, occupandosi di una produzione artigianale. Nella concezione del bracciale il centimetro ha voluto portare con sé tutto lo stimolo che lo guida quotidianamente nella produzione di calzature. Ogni bracciale il centimetro è unico, in ogni suo pezzo, uno è sempre differente dall'altro, perché è fatto a mano. Il bracciale, che ricorda proprio il centimetro di una sarta, è realizzato in vera pelle e viene invecchiato, conferendo un vero e proprio effetto vintage attraverso dei trattamenti artigianali. La chiusura è magnetoloc, un vero e proprio magnete risultando pratica, veloce e sicura. L'idea è quasi nata per scherzo tra un gruppo di amici. Serviva qualcosa di cult per il mondo della moda, ma mantenendo intatti i valori di artigianalità nel concepirla. Ed il fatto che ogni bracciale il centimetro è realizzato a mano lo rende unico. Per poi porvi al riparo da prime ed inevitabili imitazioni, all'interno del bracciale c'è la termostampa che riproduce il logo ufficiale. Il giudizio più lusinghiero che vogliamo riportare per intero è il seguente. Un accessorio Keswell, easy e assolutamente originale, versatile e facilmente abbinabile. Un bracciale semplice ma particolare.